Non sono mai preoccupato, sono sempre molto rispettoso delle qualità degli avversari, come abbiamo sempre fatto, ma cerco sempre di capire dove possiamo limitarli e dove possiamo andare a colpirli. Di conseguenza una gara alla volta, questa per me di domenica è troppo importante, è la prima del girone di ritorno, affrontiamo una squadra forte, ma l'affrontiamo in casa nostra. E dunque vorrei chiedere ai nostri tifosi di starci vicino. Questi ragazzi lo meritano, l'aneatore non sarà capace di allenarli, avremo qualche difficoltà, però io penso che il valore del Chievo in Serie A, se non lo capiscono i nostri tifosi, in un momento che era così delicato e quando ribadisco di dove eravamo a metà novembre, voglio stimolarli a capire che era una squadra che era veramente destinata a retrocedere. Siamo lì, ce la stiamo giocando, state vicino a questi ragazzi, dategli una mano, se volete fischiare, fischiate la fine della partita, ma questa è una stagione dove abbiamo bisogno di chi vuole bene al Chievo lo faccia sentire e si faccia sentire durante le partite. Poi alla fine il disappunto, ci mancherebbe la critica, l'allenatore che sbaglia a modulo, non è un problema, ma stiamo vicini a questi ragazzi, perché sono loro che porteranno il Chievo l'anno prossimo a disputare ancora la Serie A, ma devono sentire che c'è una spinta anche dal punto di vista emotivo e della vicinanza per far sì che chi vuole bene a questa squadra lo deve far sentire in questo momento. perché sennò diventa molto complicato e molto difficile. E a tal proposito, non l'ho mai fatto, volevo ringraziare i ragazzi della curva, perché veramente dal primo al 95esimo hanno sempre spinto la squadra, l'hanno aiutata, sono venuti in trasferta spesso. Ecco, io vorrei vedere quel tipo di atteggiamento da parte di tutti quelli che vogliono bene al Chievo, perché io voglio capire chi vuole bene al Chievo. Io, io che ho partecipato con il mio impegno da giocatore a portare la squadra in Serie A, a fargli vivere qualcosa di speciale, abbiamo Fabio Moro, abbiamo Salvatore Lanna, che hanno partecipato. Noi vogliamo bene a questa squadra, io voglio capire da fuori, in un momento delicato, chi vuole avere davvero bene al Chievo e spinge per far sì che il Chievo sia in Serie A. E noi abbiamo bisogno fuori di gente come i ragazzi della nostra curva, che cantano dall'inizio alla fine, che vengono fuori con noi in 20, in 50, in 100, a sostenere la squadra fuori casa e li ringrazio perché ci sono sempre. E per me è molto importante che questo atteggiamento venga condiviso da tutti quelli che vogliono bene al Chievo e che verranno allo stadio domenica. Penso che sia fondamentale credere in qualcosa, perché se non ci credi tu, è come se io vengo qua a metà novembre e dico mamma mia, ho accettato, ma dove vuoi che andiamo? Se non trasmetto la mia energia, il mio credere in qualcosa, come posso pensare che i miei giocatori credano di potercela fare? L'abbiamo costruito, ci siamo, noi ci siamo. Voglio che anche chi vuole bene al Chievo ci creda come ci crediamo noi. Non chiediamo niente di più che un sostegno che va fatto non a me, ma fatto ai giocatori e a chi vuole bene al società, quello che porta al Chievo e cosa vuol dire stare in Serie A. Io è questo che stimolo il tifoso del Chievo a vedere. Poi la critica, ma ci sta, ma ci mancherebbe. È il pane quotidiano del calcio, l'allenatore ha sbagliato il modulo, il cambio, la sostituzione, non c'è problema. Ma là dentro, in quei 95 minuti, portiamo avanti quello che vuol dire tifare Chievo e cosa vuol dire per il Chievo essere in Serie A. Chi vuole bene al Chievo per me deve ragionare così. E lo stimolo è quello, come vi dicevo prima, di quei ragazzi che vengono, che cantano, che stimolano e che ci sono. Questo vorremmo vedere noi, protagonisti.